Sono stati fermati due fratelli Gaetano e Raffaele Ciccarelli accusati di essere gli autori della sparatoria avvenuta a Capaccio Pestum contro un gruppo di bikers nel corso del Diff International Festival 2024. Tre le persone rimaste ferite non si conoscono ancora però i motivi alla base della lite. I due fratelli originari di Qualiano in provincia di Napoli sono accusati di tentato omicidio plurimo, detenzione e porto abusivo di armi da sparo. Era infatti detenuta illegalmente la pistola calibro 9x21 dalla quale sono stati esplosi 13 colpi. I due si sono costituiti nella notte presentandosi nella tenenza dei carabinieri discafati. I carabinieri erano sulle loro tracce. Il fermo di indiziato di delitto è stato eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Salerno ed è stato disposto dalla Procura anche in considerazione della irreperibilità dei due fratelli nelle fasi immediatamente successivi alla sparatoria. Nelle mani dei militari anche i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza situate nel piazzale esterno dell'hotel Harrison di Capaccio mentre era in corso il Festival Internazionale dei Sordi. I due fratelli stavano partecipando all'iniziativa quando, per motivi che non sono noti, hanno litigato con il gruppo di bikers. I reati contestati, come scrive il procuratore vicario Luigi Alberto Cannavale in una nota, sono di tentato omicidio. Il provvedimento è stato determinato dal pericolo di fuga degli indagati. Uno dei feriti è in pericolo di vita.